Dopo 23 anni alla Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, nato a Bologna il 31 agosto 1947, approdoggia la presidenza di Alitalia. Presidente della Casa di Maranello, ma anche fondatore della società Nuovo Trasporto Viaggiatori, Montezemolo è stato anche presidente di Confindustria dal maggio 2004 al marzo 2008. Il manager ha subito negli ultimi anni anche il richiamo della politica. È stato fondatore di Italia Futura, l'associazione che dal 2010 è scese in campo a sostegno di un programma di rinnovamento nazionale. Molti suoi esponenti poi hanno lavorato alla nascita di Scelta Civica di Mario Monti. A lungo si è parlato di un suo impegno come candidato premier che tuttavia non si è mai realizzato. Arriva in Alitalia in uno dei momenti più difficili per i lavoratori della compagnia aerea. Sta per decollare infatti il matrimonio con gli arabi di Etihad al prezzo di 994 licenziamenti. In questi giorni gli ormai ex dipendenti sono convocati dall'azienda per firmare la lettera di mobilità in attesa di una ricollocazione.